Concorso onologico internazionale e degustazioni sono due degli strumenti di marketing che Vini Italy, dall'8 al 12 aprile, mette a disposizione delle aziende di tutto il mondo per dimostrare l'eccellenza dei propri vini e per entrare in contatto con i buyer. A Verona infatti il marketing passa anche dal concorso onologico internazionale e dalle degustazioni proposte nei 5 giorni di manifestazione. Il concorso conosciuto come il più selettivo al mondo inizierà il 29 marzo per terminare il 2 aprile. Da quest'anno oltre ai premi speciali Vini Italy Nazione 2010 e Gran Vini Italy 2010 viene assegnato il premio speciale Vini Italy Regione 2010 e per i vini vincitori di medaglia i produttori potranno segnalare sulle bottiglie la dicitura concorso onologico internazionale 2010. In questo modo il riconoscimento della qualità raggiunta diventa un vero e proprio strumento di marketing spendibile in tutto il mondo.